Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Mitch Tuning Oggi porto un aggiornamento al mio BMV Un aggiornamento a livello meccanico Non so realmente quale sia il guadagno con questo upgrade Però me l'hanno consigliato in tanti Quindi sono fiducioso del risultato Ovviamente non posso portarvi una prova effettiva Del prima e dopo questo aggiornamento Però comunque posso provare con qualche sensazione A dirvi se effettivamente serve Questo pezzo di alluminio non serve nient'altro Che a convogliare l'aria in maniera più diretta E con più forza verso l'airbox della macchina Quindi si va a posizionare proprio dietro le griglie del copano Il montaggio non dovrebbe essere così complicato Quindi ci spostiamo subito in macchina Così vi faccio vedere come si installa Così ci spostiamo A presto. 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 A presto.